ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come trasformare un video in una gif quindi un'immagine animata che occupa ovviamente meno spazio rispetto un video e potete condividerla poi sui social network io utilizzo un software chiamato wondershare che naturalmente non fa solo questo ma permette di editare i video aggiungere effetti e quanto altro nel caso ve lo stiate chiedendo non è gratis cioè o meglio la prova sì ma poi bisogna acquistare la licenza come funziona wondershare filmora per convertire un video in una gif andate su immagini e selezionate il video che volete convertire in una gif portatelo nella timeline inferiore e ovviamente più è lungo il video e più occupa spazio e più necessita del tempo per creare la gif io ora faccio un video cortissimo per farvi vedere quindi clicco su esporta clicco su gif e da qui posso scegliere la qualità quindi la risoluzione i frame io consiglio di lasciarli su 30 se volete ridurre il peso e ovviamente la qualità magari mettete 720 per 576 o per 480 invece del full hd cliccate su ok scegliete ovviamente il nome io lo chiamo ad esempio fortnite e il percorso e cliccate su esporta ovviamente il tempo impiegato dipende dalla potenza del vostro pc dalla lunghezza del video dalla risoluzione eccetera eccetera fatto questo vi ritroverete la vostra bella gif che come potete vedere è un'immagine animata ovviamente a differenza di quella che ho realizzato prima del tutorial la qualità è inferiore la risoluzione è minore dura di meno e pesa di meno quindi questo è come realizzare una gif partendo da un video con wonder share film ora